Ciao a tutti, mi chiamo Davila e sono da Lella di Benessere, centro estetico da circa due anni per cui ho intrapreso un percorso di dermoepilazione e ho trovato molto efficace perché sono quasi alla conclusione del percorso e oltre ad avere quasi messo il pelo ho anche riscontrato una qualità maggiore della mia pelle, come se fossi tornata quasi bambina e non ho nessuna educazione e inoltre mi sono trovata molto bene con tutte le ragazze del centro sono molto simpatici, gentili, sono molto professionale e quindi consiglio a tutti moglie e donne